Che cosa fare quando una delle nostre memory card fa difetto e non riusciamo ad accedere alle foto e come prevenire un danno del genere in futuro affinché non si ripeta? Oggi vado a raccontarvi la mia esperienza a questo proposito, andremo a parlare di memory card difettose, quindi memory card che una volta infilate nel computer non ci danno la possibilità di accedere ai file e andremo a vedere come si risolve il problema in molti casi e come si fa a evitare che questo problema si ripresenti. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia e di video quindi ho un sacco di fotocamere, videocamere e un sacco di memory card e mi capita e devo dire finora mi sono sempre trovato molto bene, mi è sempre andato tutto bene nel senso che non ho mai bruciato una memory card in vita mia, non ho mai perso delle fotografie di un cliente in vita mia fino a oggi. Infatti nel video di oggi andremo a parlare proprio di questo. Più acuti di voi avranno notato che qui abbiamo un pacchetto sigillato, quindi faremo anche un unboxing oggi. Vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché alla fine andremo a vedere come ho risolto il problema di una memory card che mi dava errore di lettura. Vi lascio i capitoli così chi non fosse interessato all'unboxing può andare direttamente alla soluzione. Vi ricordo anche però che questo potrebbe essere un buon momento per iscriversi al canale e lasciare un like a questo video in maniera tale da darmi una mano con l'algoritmo di YouTube. Io direi che possiamo andare con ordine e vi faccio vedere il problema che mi sono trovato a dover gestire. Torno in studio dopo uno shooting presso un cliente, un cliente anche importante, un cliente a cui tengo perché è un cliente storico con cui ci tenevo a non fare brutta figura. Torno a casa, inserisco la memory card nel mio computer come al solito con uno dei miei lettori di scheda. Ho già fatto un video sui lettori di scheda scrausi cinesi di cui non sono contento ve lo lascio linkato in card. Ovviamente questo è un problema che è correlato e andremo dopo a vedere perché. Nel momento in cui inserisco la memory card mi viene restituito questo messaggio che dice la tua memory card non è leggibile da questo dispositivo. Ovviamente mi infurio e mi allarmo e quello che faccio è dire va bene lettore di card del cavolo allora vado con il lettore di card direttamente sul computer. Il mio Mac ha un lettore di SD card sul retro. La infilo ma mi dà lo stesso problema. A quel punto sono veramente un po' preoccupato e che cosa faccio? Rinfilo la memory card dentro nella mia fotocamera perché voglio vedere se anche la fotocamera non riesce più a leggerla e con mia grande sorpresa la fotocamera mi restituisce lo stesso messaggio. La memory card non è più leggibile e sia il computer sia la fotocamera mi esortano a formattare la carta cosa che io non voglio assolutamente fare perché formattandola perderei il contenuto per cui lo ammetto momento di panico. Ora questo problema a cosa può essere dovuto? A me personalmente viene in mente una cosa. La cosa che mi viene in mente che è la sola cosa diversa che ho fatto durante questo shooting è che una volta terminato lo shooting in casa del cliente la cosa che ho fatto è che per per blandirlo un po' ho estratto la memory card dalla mia fotocamera l'ho inserita nel suo computer e gli ho scaricato le foto sul suo computer per fargliele vedere subito a schermo in maniera tale che potesse avere un feeling di come erano andati i lavori e addirittura gli ho fatto un hdr di una cosa che avevamo fatto gliel'ho fatto lì davanti a lui per fargli vedere come mai ci avevo messo tanto e per fargli vedere il procedimento. Tanto non è un cliente che poi se lo fa da solo è un cliente che ha piacere a farlo fare bene da qualcun altro pur pagandolo quindi non avevo questo tipo di pensiero. Questa è la cosa che ho fatto di diverso rispetto al solito e potrebbe in qualche maniera aver provocato il danno sulla memory card perché comunque è l'unica cosa diversa che ho fatto e forse avendola inserita nel suo computer e dio solo sa cosa ci ha fatto con quel computer a questo punto è possibile che qualcosa sia andato storto e che qualcosa sia stato danneggiato sulla mia memory card. Io non lo so non sono un informatico ma è l'unica cosa che mi viene in mente. A questo punto però e questa non è una sponsorizzata vi devo far vedere un prodottino che mi è appena arrivato ordinato su amazon e faccio riferimento anche a un altro video che ho già pubblicato in cui vi parlo un po' male di amazon ovviamente anche questo prodotto io l'ho ordinato su amazon pacco smarrito come sempre perché ultimamente amazon mi sta perdendo tutti gli ordini cioè non è amazon in sé sono i corrieri che se trovano qualcosa che gli piace secondo me se lo tengono e quindi ormai le cose su amazon le devo ordinare due volte questo l'ho ordinato pacco smarrito ho dovuto fare il reso e ho dovuto ordinarlo di nuovo la seconda volta per fortuna mi è arrivato perché probabilmente ormai i corrieri se l'erano preso e due non se ne facevano niente. A questo punto andiamo ad aprirlo io lo apro con una vite perché non mi ricordo più dove ho lasciato il mio cutter quindi taglio l'etichetta con la punta di una vite non provateci a casa perché è pericolosissimo soprattutto se la vite è autofilettante poi non venite a dirmi che vi siete fatti male per colpa mia. Adesso andiamo ad aprirlo siete emozionati è un unboxing vero e normalmente io non le faccio gli unboxing veri perché li preferisco finti. Ok andiamo ad aprirlo scatola vuota la mettiamo qui prima cosa che notiamo è che è pieno di roba che cade allora qui abbiamo i due libretti di istruzioni in tutte le lingue asiatiche più una qui abbiamo un cavetto doppio usb c mannaggia loro maledetti avrei preferito un usb c che va a usb normale in modo da poterla infilare in tutti i dispositivi invece così li posso infilare solo in certi dispositivi ma per fortuna il mio computer ce l'ha ma ecco qui il pezzo forte che adesso io vado a scelofanare per voi ok spero che riusciate a vederlo bene però trattandosi di un'ottica macro il 35 mm è un'ottica macro molto caruccia che io ho preso apposta per fare questo giochino questo è un lettore di scheda anche abbastanza figheggiante perché come potete vedere prende la sd la micro sd e la compact flash quindi è un lettore di card super mega top super mega professionale della sandisk che ho acquistato con grandissima fatica perché su amazon non c'era non c'erano più queste cose io faccio fatica a trovarle ho fatto una fatica incredibile a trovarlo me lo sono dovuto far mandare da venditori di terze parti che ti perdono l'ordine ora non fatemi parlare perché poi divento sgradevole ciò non di meno adesso mi è arrivato devo dire che è di un'altra tempra rispetto a tutti quelli che ho già in mio possesso perché ha uno chassis in metallo ai piedini gommati vediamo se riesco a farvi vedere i piedini gommati vedete qui questi sono dei piedini gommati che quindi sono antiscivolo quando io lo appoggio lui rimane lì non si muove più perché comunque fa fa grip sulla superficie su cui lo appoggiamo sul retro ha ovviamente il buchetto per l'usbc e ha solo quello ha un selettore che questo non riesco a farvelo vedere perché è veramente troppo piccolo però c'è un selettore che mi permette di bloccare la scrittura quindi per mandarlo in sola lettura e quindi impedire che vengano cancellati i file durante la lettura c'è un bottoncino che si può mettere in posizione di lock ovviamente farò tesoro di questo acquisto e adesso facciamo una bella gara con tutti i dispositivi di lettori di carta che ho comprato in questi mesi perché ne avevo alcuni danneggiati vediamo questo quanti ne sotterra di quelli che costano meno vi lascio anche un link amazon per andare a vedere il prodotto giù in descrizione da qualche parte anche se vi segnalo che io ho dovuto ordinarlo due volte come sempre perché ormai amazon a me perde gli ordini però d'altronde nei negozi non lo trovate quindi o scrivete direttamente a sandisk o comunque vi dovete comunque affidare amazon mi dicono anche che mi è fatto obbligo di segnalarvi che se cliccate sui link affiliati in descrizione io potrei ricevere un pagamento da amazon che si aggira intorno ai nove centesimi quindi adesso grazie a chiara ferragni bisogna dirlo in tutti i video perché sennò altrimenti arrivano le multe da 50 mila euro pure a me guardate un po' come stiamo messi comunque questo è l'unboxing questo è il dispositivo e di questo siamo tutti contenti ma adesso andiamo un attimino a parlare della soluzione perché comprare un nuovo lettore di scheda non è che mi toglie dai casini se io ho una memory card che non viene più letta da nessun dispositivo non è che comprando un nuovo lettore di scheda ho risolto come per magia e allora andiamo a vedere come ho fatto a risolvere e spero che possa servire anche a molti altri di voi ovviamente una cosa che avevo pensato era a cambiare lettore di carta quindi ho provato a usare degli altri lettori perché ne ho più di uno ho provato a infilarla direttamente nel computer in più computer diversi ho provato a infilarla in una videocamera perché ho detto magari la videocamera in qualche maniera la legge poi attacco la videocamera al computer mi salvo i file almeno niente nulla di quello che ho provato ha funzionato stavo per pensare di acquistare l'ennesimo software di recupero dati perché dovete sapere che ogni ogni tot anni ogni cinque sei anni mi capita magari di dover recuperare dei file vecchi e dici magari uno shooting vecchio si è perso qualcosa o non sono sicuro di aver scaricato tutto e poi il più delle volte invece avevo scaricato tutto perché mi è già successo due volte e quelle due volte ho proprio detto cavolo ma ho scaricato tutto da quella memory card dai compriamo il programmino per fare il recupero dei dati dalla memory card così sono sicuro di aver scaricato tutto e entrambe le volte l'ho comprato per niente però che cosa succede questi programmini sono sempre diversi perché sono delle cinesate dei softwareini che durano quanto un battito dali di una farfalla quindi la volta dopo non funziona più perché non funziona più la compatibilità non esiste più quel produttore di software quindi devi comprarne un altro e tutte le volte gli devi dare 100 euro e comprarne un altro stavo per comprarne uno stavo già pensando porca miseria adesso mi tocca comprare un'altra di quelle schifezze lì mettermela sul computer la usi una volta e poi mai più stavo per farlo ero rassegnato a farlo però ho detto aspetta un momento io potrei provare a riparare la partizione di questa memory card danneggiata quindi la inserisco apro utility disk e vado su first aid per riparare la scheda però che cosa succede nel momento in cui lo faccio non mi dà la possibilità di selezionare la scheda danneggiata mi viene allora un'idea io apro first aid e lo lascio aperto inserisco la memory card e nel momento in cui la memory card mi dice impossibile da leggere in quel momento in cui c'è il pop up aperto ecco che in quel momento diventa leggibile da first aid quindi senza chiudere la finestra che mi dice impossibile da leggere io vado a lavorare sul first aid e riparo la partizione con successo lui mi dice che l'operazione è andata a buon fine ma non mi fa ancora vedere i miei file allora faccio la cosa più semplice del mondo stacco e riattacco boom la mia memory card è visibile sul computer con tutti i suoi dati ripristinati a questo punto mi scarico le foto in fretta e furia e poi vado a formattare la card in camera e sono salvo problema risolto ora questa è una casistica ovviamente a me è andata bene è possibile che voi vi troviate in un caso in cui non è possibile riparare la partizione può succedere però secondo me questo metodo può aiutarvi in diverse situazioni soprattutto se l'errore che vi dà è scheda non leggibile perché comunque in quel caso scheda non leggibile significa che c'è una difficoltà di lettura non che i file sono stati cancellati il bastardo vi dice formatta la card per leggerla è questo il problema perché se voi formatate la card allora lì sì che avete perso tutti i dati e lì sì che dopo dovete comprare un software di terze parti per andare a recuperare i vostri file che avete cancellato è quello il problema però tramite questa procedura del first aid tramite utility disk dovreste essere in grado in molti casi di recuperare tutti quanti i dati ora ho parlato con diverse persone anche nei commenti molti mi hanno dato supporto volendo perché io ho fatto una domanda in un posto detto voi cosa avreste fatto e c'è stato chi mi ha detto io sarei andato da una società di recupero dati io avrei comprato un softwareino per il recupero dati insomma cose che bene o male sapevo già però vi porto appunto questo contenuto perché questa soluzione me la sono inventata diciamo sono andato a caso e mi è riuscita quindi sono molto contento ovviamente e però ve la porto ve la regalo perché è una cosa secondo me che può servire può servire a molti è una cosa da provare prima di andare a spendere a buttare soldi per quei software lì e prima di perché softwareino del cavolo così spendiamo 100 euro società di recupero dati ne spendiamo mille magari quindi prima di cacciare fuori quei soldoni secondo me vale la pena provare a riparare la partizione della memory card in casa perché tanto non succede niente cioè peggiorare le cose è difficile quindi vale la pena provare perché risparmiamo un sacco di soldi risparmiamo tempo e non dobbiamo dire al nostro cliente guarda devo dire una cosa sì proprio di quello ti volevo parlare facciamo una figura veramente brutta invece in questo modo ci salviamo perché non glielo dobbiamo neanche dire a quel punto io attenzione poi io avrei anche potuto fare una cosa avrei anche potuto dire al cliente guarda successo questo problema con la memory card danneggiata può succedere però io ti ho scaricato le foto sul computer a casa tua me le rimandi così te le sistemo e poi ti do i definitivi io avrei potuto anche cavarmela così però era comunque brutto perché comunque gli avrei dovuto dire mi devi mettere lì farmi un we transfer lui un po non c'ha voglia un po non è capace insomma meglio che me la sono risolta da solo quindi sono molto contento di essermela risolta da solo vi porto queste due soluzioni primo cercate di riparare la partizione secondo usate un lettore di scheda di qualità perché comunque i lettori di scheda possono essere responsabili del danneggiamento in lettura e in scrittura di una scheda e a questo punto vi do anche un altro consiglio non mettete le memory card nei computer dei vostri clienti io guardate tre volte in vita mia l'ho fatto questa è la terza volta e la terza volta mi ha fatto questo scherzo io non metterò mai più la memory card nel computer di un mio cliente piuttosto glielo dico chiaro e tondo vuoi che te le dia a tutti i costi ti assumi la responsabilità del fatto che potrebbero esserci incidenti di questo tipo e anzi se me le vuoi mandare subito le mettiamo sul tuo computer però me le passi immediatamente via we transfer o file mail o altro sistema altro ftp a tua scelta però io non infilo più niente in computer che non siano miei perché non so cosa ci hai fatto molto bene amici io direi che anche per oggi è tutto fatemi sapere in un commento cosa ne pensatevi se vi siete mai trovati in situazioni del genere migliori peggiori avete risolto non avete risolto parliamone giù nei commenti vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché poi io rispondo con degli shorts verticali e se vi iscrivete andate a prendervi tutte le risposte a commenti che magari possono interessare anche il vostro caso specifico sto cercando di rispondere a tutti ma siete veramente tanti quindi privilegio le domande che hanno una risposta immediata e soprattutto privilegio quelli che mi dicono domani devo fare un battesimo cosa mi consigli piuttosto che quelli che mi danno la proverbiale pacca sulla spalla perché quella è una cosa che sì io leggo a prezzo però molte volte non c'è neanche bisogno di una risposta quindi quelli purtroppo li lascio un po in coda rispondo prima alle domande chiaramente che dire lasciate anche un like a questo video perché probabilmente a qualcuno di voi ho salvato le penne io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video